Amici del TG Platinum, ben trovati tra le curiosità ma soprattutto le notizie del mercato immobiliare. Oggi parliamo di un mercato immobiliare vivo anche nel 2024. Il 2024 sarà un altro anno di stimolante sfida per il mercato immobiliare. Le ultime stime indicano un perseguimento del trend già evidenziato nel 2023, quando il numero di compravendite si è attestato a 680.000. Quest'anno dunque si andrà ancora un po' più giù con volumi, previsti intorno ai 650.000, però si tratta comunque di un buon numero di transazioni che evidenzia un mercato in movimento. In uno scenario come quello appena evidenziato non si esclude quindi una riduzione dei prezzi, in particolare per le tipologie più popolari e per le metrature più ampie, mentre i piccoli immobili, quelli dal capitale fruibile a tutti, non dovrebbero subire importanti ribassi. Previsioni di ribasso dei valori anche per le soluzioni da ristrutturare che richiedono lavori significativi.